L'Università dell'Aquila è da record e non paga lo scotto dell'emergenza Covid in termini di attrattività e matricolazioni. Hanno superato infatti ampiamente le 3.000 unità, le nuove immatricolazioni, cioè gli studenti che si iscriveranno al primo anno e per questo la percentuale del 17% contro il 9% in più dell'anno precedente. Mancano all'appello alcuni tasselli, però per le professioni sanitarie ad esempio non ci sono stati concorsi. Un risultato che premia il lavoro dell'Ateneo, sempre più proiettato in avanti. Noi abbiamo migliorato una prestazione che era già significativa ed in aumento nello scorso anno dove abbiamo fatto segnare un più 9%, quest'anno siamo a più 17% circa, che è un numero non ancora definitivo e verosimilmente volto verso l'aumento, diciamo. Probabilmente supereremo il 20% di immatricolati in più in quest'anno accademico. Manca solo una parte delle professioni sanitarie che sono le lauree magistrali di area sanitaria perché di solito concorsi in quegli ambiti si fanno successivamente e sono caduti proprio in coincidenza del massimo sviluppo della pandemia, per cui non si sono tenuti e trattasi di alcune centinaia di immatricolati in meno che dovranno essere recuperati, speriamo, entro l'anno, appena la perdita di un anno accademico, diciamo, per questi aspiranti studenti. Per quanto riguarda invece un eventuale ritorno in presenza, probabilmente questo avverrà con modalità che saranno stabilite in seguito nel secondo semestre perché c'è stata l'apertura da parte del Ministro dell'Università della Ricerca Gaetano Manfredi, come ha spiegato il Rettore. Proprio ieri abbiamo ricevuto la sollecitazione del Ministro Manfredi a fare il punto della situazione facendo riferimento al DPCM del 14 dicembre che prevede delle possibilità di operare in presenza in alcune circostanze in cui sia garantita naturalmente la massima sicurezza. Ora il passaggio prossimo sarà una riunione del Comitato di coordinamento regionale delle università dove insieme ai colleghi di Teramo, di Chieti e al GSSI decideremo in maniera coordinata, diciamo, come muoverci. Io auspico che un po' di attività possano essere svolte, che un po' di studenti possano tornare in questa città dove evidentemente sono un valore aggiunto e anche perché lo studio in presenza a livello post base, a livello universitario, è esso stesso, diciamo, un qualcosa in più che non può essere ottenuto con la didattica telematica pur effettuata nella migliore maniera possibile.